Mi hanno detto che ha fatto una conferenza con l'infuso orario australiano, quindi ero pronta per dirlo. Sì, sì, avevano le cinque del popericcio. Che ore sono adesso lì? Bello, bello. Sono le sette lì, le otto. No, qui sono le otto. Le ore di mattina. Ah, di mattina. Cosa fai lì tu? E questo è il mio storio. Bravo. Quando sei arrivato? Il macello che ho all'interno. Bravo. E dove creano tutte le mie ombre. Ecco, sì. Ottimo. Ma che fai? E niente, quindi mi faceva piacere salutarla. Io non sono più potuta tornare in Italia da l'inizio del Covid. E dove sei? E dove abiti? E quando arrivi ci vediamo. Ah, sì, abito qui però da 9 anni, quindi ormai diciamo che sono più australiana che italiana. Bene, bene. Vabbè, mi lascio la sua scena e grazie di nuovo per tutto quello che fa per tutti noi. Grazie. Anche perché siamo in sali. Grazie, grazie. 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 Grazie.